Se io vi dicessi che c'è un film da cui Predator ha tratto ispirazione, voi ci credereste? Ve lo ricordate Predator con Arnold Schwarzenegger e Carl Weathers? Dirigeva John McTiernan. Parlava di un gruppo di soldati che, inoltratisi nella giungla, riusciva a portare a compimento con successo un'operazione. Però poi finivano per essere predati da una creatura aliena, indistruttibile, inscalfibile. Da Predatori, cioè divenivano prede, i ruoli si invertivano in qualche maniera. Ma se noi a Predator togliamo l'elemento fantascientifico, esce un film del 1945 diretto da Raoul Walsh e interpretato da quel grande interprete, da quel grande divo che era Errol Flynn. Oggi parliamo di Obiettivo Burma. Benvenuti o bentornati su Cannotv, oggi, l'avrete capito, ci occupiamo di cinema, ma torniamo indietro alla vecchia Hollywood, perché vi presento uno dei film più interessanti dell'epoca. Diretto da uno dei più grandi registi, di cui abbiamo parlato già innumerevoli volte su questo canale. Non mi soffermo più di tanto sulla sua filmografia, poiché certe sue regie sono ormai note dalla furia umana, ha una pallottola per roi. Raoul Walsh è uno dei registi più completi, versatili, con una carriera lunghissima che inizia all'epoca del muto e prosegue oltre gli anni 50. Uno dei registi che ha attraversato veramente la prima metà del Novecento per quanto riguarda il cinema statunitense e non solo, con alcune incursioni anche nel cinema italiano. Noi però ci concentriamo sul versante statunitense, siamo nel 1945, lo stesso anno di Roma, città aperta. È sempre un film bellico, ma un film di impostazione completamente diversa. Racconta, infatti, di una pattuglia di paracadutisti, incaricata di distruggere una postazione radio giapponese situata nel mezzo della giungla birmana. L'operazione riesce con successo, ma durante la manovra di rientro qualcosa va storto e i soldati, sotto la guida del capitano Nelson, interpretato da Errol Flynn, impossibilitati ad essere raccolti dagli aerei alleati, sono costretti ad attraversare la giungla a piedi per fare ritorno alla base. In balia dei nemici, in agguato, nascosti tra la folta vegetazione, si trasformeranno così da predatori a prede, proprio come avveniva in Predator, che però è di molto successivo, naturalmente. Ecco quindi da dove pesca la grande saga cinematografica che poi si è sviluppata appunto a partire dal film dell'87 di John McTiernan e che poi si è incrociata anche con Alien, ma quella è un'altra storia. Pensate che Errol Flynn, l'interprete principale di Obiettivo Burma, era talmente orgoglioso della sua interpretazione in questo film tanto da annuverarlo tra le sue migliori opere a cui aveva preso parte, uno dei pochissimi film di cui Errol Flynn andava veramente fiero. Un interprete Errol Flynn, spesso considerato più un divo che un attore, ma famosissimo all'epoca per la partecipazione a film un tempo estremamente popolari, da Robin Hood, dal conte di Essex, spesso considerato in virtù di questi ruoli cappe e spada all'erede di Douglas Fairbanks, quel Douglas Fairbanks che Raoul Walsh aveva diretto nel Ladro di Baghdad. Alto, biondo, atletico, con gli occhi azzurri, Errol Flynn era perfetto nel ruolo dell'eroe senza macchia e senza paura, in tanti film forse anche piuttosto ingenui, piuttosto fiabeschi come fattura. Qui invece interpreta un ruolo estremamente drammatico e riesce veramente a restituire al suo personaggio l'umanità di un capitano che continua a sperare per salvare la vita ai suoi sottoposti e anche la paura, il panico di essere stato abbandonato dai suoi commilitoni. Errol Flynn in questo film è doppiato da Gualtiero De Angelis, voce anche di Cary Grant e di James Stewart, nonché appunto doppiatore ufficiale di Errol Flynn e doppiatore ufficiale anche di altri attori come ad esempio Dean Martin. Il doppiaggio del film è meraviglioso, fortunatamente questa versione DVD che ho recuperato mantiene il doppiaggio originale dell'epoca e tra le tante grandissime voci che si sentono nel corso del film si può notare anche quella di Alberto Sordi, all'epoca non ancora celebre a livello attoriale, ma attivo nel doppiaggio, in effetti doppia uno dei soldati che fanno parte di questa pattuglia di paracatutisti capitanati dal capitano Nelson, ovvero Errol Flynn. Obiettivo Burma è un film tecnicamente ineccepibile con una bellissima fotografia di James Wong Ove che veramente esalta i volti degli attori straordinariamente individuati da Raoul Walsh. Il montaggio di George Amy è efficacissimo e le musiche di Franz Waxman sono utilizzate in maniera estremamente intelligenti. Il suo commento musicale cessa lasciando il posto a silenzi carichi di tensione nelle sequenze d'attesa. È un film a tratti commovente, teso, incalzante dal primo all'ultimo minuto. La giungla appare quasi claustrofobica mentre avvolge gli asausti militari privi di qualunque appiglio e praticamente condannati a morte. È una storia di eroismo, la sopportazione carica di senso del dovere del capitano Nelson, per l'appunto, che evidenzia una volta ancora la bestialità alla base della guerra e il labilissimo equilibrio presso il quale si possono invertire le parti stravolgendomele nel giro di un soffio. Da predatori a prede, quindi, proprio come Predator, però molti anni prima. Obiettivo Burma è un film, secondo me, straordinario. Una delle più belle regie di Raoul Walsh, una delle più grandi interpretazioni di Harold Flynn che qui dimostra di essere anche un grande attore all'occorrenza, oltre che un grande divo, un grande volto e un grande nome di quelli da mettere sui cartelloni delle locandine cinematografiche. È un film, secondo me, perfetto sotto tutti gli aspetti, dalle interpretazioni, alla musica, alla fotografia, al montaggio. Le sequenze d'azioni sono veramente ben svolte, c'è una parte iniziale straordinariamente intensa, dove vediamo questa pattuglia di paracadutisti gettarsi proprio sugli aerei, quindi atterrando, insomma, su questa giungla che poi farà da terreno per tutto quanto il film. E sono delle scene cariche di umanità, anche. È un film, secondo me, che riesce, ancora oggi, a distanza di tutto questo tempo che è passato, di tutti questi anni, a dire qualcosa di niente affatto banale. sul tema della guerra. E per questo merita l'attenzione da parte del pubblico, quell'attenzione che, purtroppo, è lentamente sfumata, inesorabilmente sfumata, nel corso dei decenni, come spesso, purtroppo, accade per quanto riguarda film relativi a quell'epoca. Delle vere e proprie perle nascoste tra le pieghe del tempo, che hanno ispirato dei film entrati nella memoria collettiva di tutti quanti, come Predator, in questo caso. Ma questo obiettivo burma, secondo me, a Predator non ha assolutamente nulla da invidiare. Anzi, è un film molto più maturo per le tematiche che mette in scena e per il modo in cui le espone. Se l'avete visto, fatemi sapere che cosa ne pensate. Io vi ringrazio, come sempre, per l'ascolto e consigliandovi ancora una volta questo grande film, vi do appuntamento, voi piacendo, al prossimo video. Ciao a tutti e buon proseguimento di serata.